Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12 dove ci sono 2 km di coda per lavori al km 124 tra Versilia e Massa in direzione Genova. In Fippillicode ha tratti per viabilità esterna che non riceve tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia tratto chiuso per lavori 3 km 274 e 700 e 277 e 750 tra Donoratico e Cecina Centro in direzione Nord. Per gli stessi lavori chiuso anche lo svincolo di Cecina Sud. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero serso unico alternato per Frana tra Popiglio e La Lima al km 68 e 950. Muoversi in Toscana Inf è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!